Ciao, sono Matteo. Oggi vi mostro come controllare la superficie dello stelo. Il controllo visivo della superficie dello stelo è fondamentale per garantire la durata delle guarnizioni e la resistenza alla corrosione della superficie. Se la superficie è presente dei segni, questi per abrasione possono usurare precocemente la guarnizione, causando una perdita. Per questo motivo è necessario controllare accuratamente la superficie dello stelo. Con uno straccio imbevuto di detergente, ad esempio alcol, lucidare la superficie. Controllare bene che all'estremità non ci siano spigoli taglienti. Con una luce appropriata, ad esempio una comune lampada LED, controllare che la superficie non sia danneggiata da botte o segni longitudinali. Se si trova un difetto lieve, si può lucidare la zona con una carta vetrata molto fine. Se si trovano segni molto profondi o porosità, è necessario rifare dal principio il trattamento anticorrosione.